Provercelli! 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 Simone Emanuello, un trasferimento last minute alla Provercelli. Come vivi questo salto nei professionisti? Sì, per me è una nuova esperienza e sono anche molto contento di essere qui. Sì, è stata una cosa decisa quasi all'ultimo, ma sono molto contento e non vedo l'ora di iniziare. Tu nasci centrocampista centrale, dove credi di poterti collocare all'interno dello scacchiere di Scazzola? Sì, il mister gioca con il 4-4-2, quindi con due centrocampisti e penso di giocare lì in mezzo. Cerco di giocarmi il posto e di conquistarmelo al più presto. Insomma, tu hai giocato anche in alcune nazionali giovanili, ritrovi qualcuno dei tuoi ex compagni? Conosci già qualcuno che hai avuto come avversario in passato? Sì, ho giocato nella nazionale Under 18 e 19, nella Juventus ho giocato con Giuseppe Ruggero, che era un mio compagno. Adesso lo rivedo qua, quindi conosco lui, quindi mi ambienterò grazie anche a lui, che conoscerò gli altri miei compagni. Si può fare questa promozione secondo te? Spero molto di sì, spero. Speriamo. Grazie, in bocca al lupo. Prego, figurati. Arrivederci. Grazie, in bocca al lupo. Grazie, in bocca al lupo.